Anche i celiaci adesso fanno parte delle categorie vulnerabili di consumatori, bandite dall'Unione Europea alle etichette senza glutina d'appannaggio del produttore piuttosto che a favore del consumatore del celiaco. Il Parlamento Europeo ha adottato il rapporto Ries, relatrice belga della Commissione Envy, la Commissione Ambiente, Salute e Sicurezza Alimentare del Parlamento Europeo, che ha sostenuto l'introduzione degli alimenti per celiaci nella proposta di regolamento della Commissione, accanto agli alimenti destinati ai lattanti, a fini medici speciali e a quelli destinati a diete. Un successo per la posizione tenuta dall'Associazione Italiana Celiachia che ha permesso che i celiaci venissero considerati quale categoria vulnerabile di consumatori. Un pacchetto di emendamenti ancora in fase evolutiva che a dire di Gianluca Blandino, rappresentante AIC della provincia di Ragusa, permetterà di poter leggere le stesse etichette in tutta Europa con l'indicazione delle parti per milioni di glutine tollerabili dai celiaci in ogni nazione, dato che le percentuali di tollerabilità variano da paese a paese.